Lo so, avevo detto che avrei fatto uscire l'analisi della promo tra martedì e mercoledì Vabbè, ragazzi ci sono state le cose e l'ho fatto oggi, dai su, meglio tardi che mai, dai su I video escono, i video non escono, non importa, no, l'importante è che escono, quindi Vabbè, fammi iniziare subito perché se no poi Bello a tutti ragazzi su Parla e Foxound e bentornati nel canale Bentornati ragazzi nel canale The Walking Dead News, spoiler e altro Sono tornato finalmente con l'analisi della promo perché molti mi davano per disperso Visto che avevo detto lunedì nella live che il video dell'analisi della promo sarebbe uscito tra martedì e mercoledì Quindi tra questi due giorni, ma purtroppo ragazzi non l'ho potuto far uscire ragazzi Perché ho voluto dare spazio prima a cose personali piuttosto che al canale ragazzi Perché sono accessi a alcune cose che ho voluto appunto dare la priorità a cose belle alla fine Perché comunque ragazzi ho fatto cose interessanti ma non vi sto a spiegare cosa Magari lo spiegherò poi più avanti, però ragazzi adesso insomma è così Quindi sappiate soltanto che non ci sono stato per motivi personali Ma state tranquilli ragazzi che adesso torneranno i classici video Infatti tra sabato e domenica dovrebbe uscire un nuovo video prima della puntata di lunedì Quindi state tranquilli che usciranno più video Ed infatti oggi ragazzi andiamo a fare l'analisi della promo Come probabilmente avrete letto dal titolo dell'episodio 9x4 The Obligate Sì ragazzi purtroppo, purtroppo avete visto bene dal titolo La fine di Rick è vicina Questo perché? Perché è così ragazzi Siamo di fronte al penultimo episodio di Rick Grimes L'hype aumenta soltanto per questo Soltanto perché so bene che saranno gli ultimi due episodi che io vedrò Rick nella stagione Anzi nella serie in generale Quindi ho voluto mettere questo come titolo Proprio perché rappresentano gli ultimi due episodi della persona che veramente ho amato E sto continuando ad amare nel mondo delle serie tv Cioè il personaggio che l'attore diciamo che preferisco in assoluto tra tutte le serie tv che ho mai visto È proprio Andrew Lincoln Quindi ragazzi sì mi dispiacerà tantissimo Probabilmente farò una sorta di video tributo Probabilmente dopo che Rick Grimes Insomma sarà andato in onda l'ultimo episodio di Rick Grimes E niente ragazzi state sintonizzate sul canale che ne vedrete delle belle Non ci dilunghiamo in altre chiacchiere Prima di iniziare come al solito vi ricordo di lasciare un piace perché ci tengo veramente moltissimo Vi ricordo di iscrivervi per non perdere i prossimi video e di attivare la campanellina delle notifiche Vi ricordo come al solito ragazzi di superare i 100-120 mi piace in questo video Non so bene se sperimenterò una nuova funzione di YouTube YouTube Premiere Che sarebbe un nuovo servizio che YouTube ha introdotto Di una sorta appunto di Premiere Quindi praticamente voi potete visualizzare il video in anteprima quando esce E chattare in live come se fosse una live stessa Ma in realtà è un video dove non potete saltare diciamo i pezzi Però perché è come se fosse una live E poi verrà caricato da YouTube come un video normale Quindi è interessante questa cosa Io non so se la proverai in questo video Ma se la vedete vuol dire che l'ho sperimentata Quindi se volete entrare nel gruppo Telegram Mandate un messaggio privato che trovate il link nella descrizione di questo video Non ci rendiamo in altri chiacchiere Iniziamo subito con il video In descrizione troverete il link della promo Perché come sapete non posso metterla su YouTube a causa di problemi di copyright Ma comunque adesso insomma le andremo ad analizzare frame per frame Con le immagini Quindi state tranquilli che insomma Vedrete quello che sto vedendo anch'io in questo momento Prima, primo frame insomma, prima foto Vediamo una Maggie Perché sì ragazzi Maggie nello scorso episodio è stata molto protagonista All'interno dello scorso episodio di The Walking Dead Che probabilmente insomma avete visto Se avete seguito la live insieme a noi Abbiamo dato un'impressione generale sull'episodio È stato veramente un bel episodio Quindi questo video potrebbe contenere spoiler dell'episodio precedente Se non l'avete visto Vediamo una Maggie appunto combattiva In quanto grazie a Cindy Che è quella di Oceanside Che ha giustiziato Arat nel precedente episodio Gli ha fatto capire come Quello che stava facendo Cindy Ovvero vendicarsi della persona Che comunque ha ucciso i suoi amici Diciamo le sue persone Sia la cosa giusta Perché in questo momento Lei sta tenendo in vita Negan Ed insieme a Daryl Probabilmente ne vedremo delle belle in questo episodio Ne vedremo anche nella promo Perché probabilmente Gli stessi Scusate Daryl e Maggie Stanno arrivando Quindi stanno andando Ad Aleksandra E indovinate per cosa Per far fuori Lo stesso Negan Vediamo una Maggie appunto Osservare Queste sono appunto le mura di Hiltop Osservare come Hiltop sta crescendo Come Hiltop sta migliorando Sempre di più Vediamo una Maggie molto concentrata Nell'obiettivo Ovvero quello appunto Di far crescere Hiltop Ma poi Vediamo questo frame Che ci fa capire Che sta preparando degli oggetti In questo momento Vediamo delle sprang Insomma degli oggetti particolari Che io non vorrei che usasse Proprio contro Negan stesso Adesso non chiedetemi come Perché comunque insomma Non so bene come li userà Però potrebbe essere Per torturarlo O proprio per ucciderlo Quindi insomma Questi strumenti Staranno probabilmente Destinati a Negan E io sono veramente curioso Di vedere Maggie Come se la giocherà In questo momento Però vediamo appunto In quest'altro frame Una Maggie Che mette dentro Nello zaino Tutti quelli che sono Gli oggetti Che probabilmente Le serviranno Per il suo obiettivo Insomma quindi Uccidere Negan O perlomeno Torturarlo Non lo so Comunque insomma Lo vedremo poi Nell'episodio E poi ovviamente Insomma Vediamo una Maggie Che in uno sneak peek Anche è uscito Recentemente Che si è visto Proprio il dialogo Fra Maggie E Jesus E Jesus Prova in qualche modo A cercare di convincere Maggie a non fare Quello che sta per fare Perché Jesus stesso dice Sì è vero Negan si meritava Di morire Però devi stare attento A queste cose Perché poi insomma Il fatto che tu stia Facendo questa cosa Non ti rende diciamo Diverso da lui O in qualche modo Insomma sta cercando Di far desistere Maggie Da fare quello Che sta per fare Perché comunque È un passo veramente grande Quello che vuole fare Maggie Cioè praticamente Buttare il piano di Rick E praticamente Fare quello che aveva detto Nella fine Dell'ottava stagione Insomma Cioè aspettare il momento giusto E mostrare a Rick Che si sta sbagliando E questa ragazzi È una cosa Veramente molto bella Un dialogo tra loro due Era necessario Perché Jesus Se non l'abbiamo mai visto Prendere una posizione reale All'interno di questo Nuovo mondo Di questo nuovo mondo Che sta creando Rick E quindi insomma È interessante Questo nitipic Probabilmente ci farà capire Cioè questa scena In particolare Ci farà capire Proprio il punto di vista Di Jesus Finalmente poi vediamo Un Rick Come nel trailer Perché sicuramente Ve lo ricorderete Insomma dal trailer Un Rick che in realtà Non stava osservando L'orda di vaganti Che praticamente Stava avanzando Come abbiamo magari Potuto ipotizzare Perché quella Era in realtà Del primo episodio Se chi ha visto il trailer Lo ha presente Ma sta osservando Il ponte Perché sì ragazzi Probabilmente L'acqua sta cercando In qualche Sta sempre più crescendo Quindi l'acqua Sta praticamente Distruggendo nuovamente Il ponte Perché è lo stesso ponte Che l'acqua stessa Lo ha distrutto Appunto Una prima volta E adesso ragazzi Si sta ripetendo la cosa Quindi vediamo proprio Un ponte Che probabilmente Cederà da un momento All'altro Vediamo infatti Rick consultarsi Con Eugene E Rick sta dicendo A Eugene Dobbiamo trovare un modo Per non farlo cadere Questo ponte Ci sarà un modo appunto Per non farlo cadere Lo sta dicendo a Eugene Perché rappresenta Diciamo L'ingegnere della situazione O comunque La persona che ne sa Più di tutti All'interno del gruppo Ed è un ruolo Che finalmente Eugene Io voglio vedere Anche un po' più di Eugene In questa stagione Perché Si abbiamo visto Eugene Diciamo che È a capo Delle particolari cose Che già abbiamo visto Anche nelle precedenti stagioni Quindi è un po' Il cervellone Della situazione Però vorrei vederlo Un attimino di più In questa stagione Un attimino un po' più Di analisi Del suo personaggio Visto che lui è L'artefice di tutta la guerra Quindi è interessante Sarà interessante Speriamo vedere Il suo punto di vista Poi ragazzi Dopo questo Vedremo un conflitto Molto aperto Tra Rick e Daryl Per esempio In questo momento Stai vedendo Il frame Dove Rick e Daryl Vanno in moto Come nel trailer E quindi Sarà interessante Poi nei prossimi frame Lo vedremo Proprio attentamente Che i due Poi si andranno Appunto A picchiare Un po' come L'ottava stagione Quando comunque Rick voleva Far esplodere Cioè Daryl Voleva far esplodere Il santuario E farla finita subito Rick gli ha detto Di no E quindi potrebbe essere Una sorta di conflitto simile Se no magari peggio Questo non lo sappiamo Ma in attesa Di quel frame Troveremo altri frame Interessanti Come lo stesso Gabriel Che dopo Il terzo episodio Come avete sicuramente visto Jedis diciamo Si sa che sta Probabilmente collaborando Con New World Order O chiunque sia L'elicottero Insomma Perché abbiamo visto Appunto Che l'elicottero Ufficialmente È a contatto Con Jedis Cosa che già sapevamo Insomma Quindi C'è uno scambio Addirittura di persone Di Jedis stessa Che praticamente Porta le persone A questo gruppo E le etichetta Diciamo Come A o B Ed è una cosa Inquietante Perché non sappiamo Bene adesso Cosa significa Appunto Cosa significa Questa cosa Che cosa è una A O cos'è una B Probabilmente sarà Il grado della persona Se a livello di importanza Quindi una persona A È importante E una persona B Non lo è Molti addirittura Ipotizzano che Jedis possa vendere Il Rick stesso Al Commonwealth Quindi questo gruppo qua Che si dice Essere il Commonwealth Ma lo scopriremo Solamente ragazzi Nei prossimi episodi E vediamo proprio Un Gabriel Che è un po' Vittima di La classica cosa Che fa Jedis Barra N Con Rick Come ha fatto Con Rick Che è una settima stagione Che manda i vaganti Contro Utilizza i vaganti Come sorta appunto Di Di spavento Insomma contro le persone Come abbiamo visto Con Rick Con Negan Insomma la classica Jedis di sempre E poi ragazzi Finalmente Qui dopo questi frame Dove abbiamo visto Una Jedis Che diciamo Ha in ostaggio Gabriel Abbiamo visto Finalmente Stiamo vedendo Finalmente Il conflitto Tra Rick E Daryl Un conflitto Ragazzi Davvero Molto Molto Importante Perché poi Appunto I due Si picchiano Quindi erano in moto Daryl Lascia la moto E poi Parte diciamo Il conflitto Tra i loro due Che sfocerà Poi probabilmente Qualcosa di più Perché poi vedremo Più avanti Che cadranno i vaganti Insomma cose del genere In questo episodio Ragazzi Oltre appunto Ai conflitti Tra Rick e Daryl Un po' di Gabriel Con Anne E ovviamente Insomma Quelli che sono Quelli che sono Appunto Maggie e Daryl Contro Negan Vediamo proprio Una mission Intenzionata Ad andare Da Negan E lì c'è un discorso Veramente molto bello Che io Ho veramente Il piacere di vedere Perché è la stessa Cella chiaramente In cui Rick ha visitato Negan Nel secondo episodio Ma la vediamo Proprio così Insomma Più aperta Un po' più di luce Insomma Vediamo Un dialogo Tra mission E Negan Cosa si diranno Loro due Io sono veramente Naip Di sapere ragazzi Da risposta Insieme a voi E in questo episodio Ragazzi Oltre a tutto Cioè In questo episodio Ragazzi Veramente sarà una bomba Io ve lo dico Tranquillamente Perché vedremo Tante cose insieme E probabilmente Si preparerà A quello che è L'epilogo di Rick Quindi la fine Di Rick Grimes Ed infatti Vediamo proprio Come Carol E i salvatori Siano nuovamente In conflitto Ma questa volta Credo che sia Un conflitto Ragazzi Che si Diciamo Sistemerà Solamente Con alcune morti E ne sono certo Perché È un conflitto Ragazzi Che già va avanti Dal precedente episodio E non si è concluso Con delle morti Ma credo che adesso Questi salvatori Probabilmente Se la stanno rischiando Veramente tanto E poi appunto Vedremo Vediamo un altro Appunto Un'altra frame Dove vediamo appunto I vaganti Che cadono Da questa Da questa cava Che è la stessa cava Che dove Rick e Daryl Cadono dentro Per picchiarsi Cioè in pratica Il loro litigio Insomma Il loro picchiarsi Attira probabilmente I vaganti E i due Si dovranno Spero aiutare Come hanno fatto Nell'ottava stagione Quando la bomba Stava per esplodere I due si dovranno Aiutare Per cercare appunto Di scappare dai vaganti Oppure ucciderli E io spero Veramente In un discorso Tra i due Molto importante Un discorso Che sia chiaro Che sia deciso E probabilmente Sarà uno degli ultimi Discorsi Che Rick e Daryl avranno All'interno di questo episodio Perché chiaramente Come ho già detto Ce ne mancano due Di episodi Di Rick Grimes Quindi sono gli ultimi due E veramente Ho molto hype Per questo episodio Ragazzi Un episodio Che mostrerà tutto Appunto Come già ho detto Mostrerà appunto Il ponte Che sta per crollare Mostrerà una Maggie E un Daryl Pronti a uccidere Negan Mostrerà appunto Negan stesso In cielo con Michonne Un conflitto Tra Rick e Daryl Anne con Gabriel E ragazzi I conflitti con i Salvatori E eccetera Vediamo ragazzi Un episodio Veramente molto bomba Io sono in hype Veramente tantissimo Per vedere questo episodio Perché Nel quarto e il quinto Praticamente Esploderà tutto quello Che non è esploso In questi episodi E saranno Veramente Penso Gli episodi più belli Di questa stagione O perlomeno Uno Diciamo Gli episodi Diciamo più belli Ecco Tra quelli Di questa stagione Fatemi sapere ragazzi Voi nei commenti Cosa ne pensate Di questa Di questa promo E diciamo Tutti quanti i frame Di questa promo stessa Fatemelo sapere ragazzi Qui giù Con un commento E spero questo video Si è sufficiente a caso Vi ricordo di lasciare un mi piace Perché ci tengo veramente moltissimo Vi ricordo di iscrivervi al canale Per non perdere i prossimi contenuti Di The Wall Too Dead Mi raccomando ragazzi Superiamo i 100 120 mi piace Per questo video Vi ricordo di entrarvi Nel gruppo Telegram Se non avete ancora fatto ragazzi Il link della pagina Facebook Per contattarmi Lo trovate nella descrizione Di questo video Io vi ringrazio ragazzi Per aver guardato Questo video E ci risentiamo Spero In un prossimo presto E ragazzi Un saluto da FoxSan Da The Walking Dead News Esporre e altro Bella Ciao a tutti Noi siamo la vita Quella è la morte E verrà a prenderci Se non resteremo uniti E la morte